Sono ritenute appartenenti a clan Mallardo le 25 persone arrestate dalla DIA di Napoli alle quali la procura contesta tra gli altri reati di associazione per delinquere di tipo camorristico. Tra i destinatari della misura c'è anche un dentista. L'uomo è accusato di aver consegnato un certificato medico recante false attestazioni al regente del clan che sta scontando una condanna a 30 anni per omicidio, utilizzato per giustificare la sua assenza in occasione di un controllo dei carabinieri nell'abitazione dove si sarebbe dovuto trovare in detenzione domiciliare. Per ragioni di salute gli era stata concessa la detenzione domiciliare in Piemonte ma era stato autorizzato a regarsi per alcuni giorni al mese a Giuliano in Campania per sottoporsi a cure o dontoiatriche. Durante la sua permanenza nel napoletano però organizzava summit con gli altri affiliati e gestiva i proventi delle attività illecite che venivano versati in una cassa comune utilizzata per il sostentamento delle famiglie dei detenuti. Il denaro derivava prevalentemente dalle estorsioni che vedevano vittima i cantieri edili di Giuliano ma anche dei comuni della fascia costiera, Licola, Varcaturo e Lago Patria. Per gestire gli affari il regente si avvaleva tra gli altri anche dei suoi familiari più stretti tra cui la moglie, una delle sorelle e il cognato, anche loro arrestati e accusati di associazione. Durante il suo periodo di regenza ha messo fine a dei conflitti interni gestendo i rapporti con il gruppo scissionista delle palazzine di Giuliano e consolidato gli storici rapporti con i clan napoletani dei Contini e Licciardi dell'alleanza di Secondigliano.